Sì, sì, confermo, fine gennaio, i primi di febbraio, innesto, guardate, è già conclusa l'opera, chiariamo questo, adesso è una questione di autorizzazioni, anche perché c'è un nuovo interlocutore, ma non è colpa sua, che anche a 27, che non è lo stesso concessionario, quindi c'è tutto un tema di pratiche che faranno tra concessionari di autorizzazione, ovviamente con l'Audi, dopodiché l'opera è conclusa, vi annuncio che è conclusa, di fatto conclusa, si tratterà di programmare questa apertura il quanto prima, io spero fine gennaio, al massimo i primi di febbraio. E sul versante vicentino? Sul versante vicentino la situazione è questa, noi dovremmo essere in grado di aprire fino a Montecchio nella primavera, esagero, lo dico entro giugno, dall'altro però abbiamo il casello di Montecchio, cioè l'innesto, che purtroppo non compete a noi perché compete a società autostradale, quindi non è un'opera che seguiamo noi e ci dicono da quel fronte che l'infrastruttura dovrà essere pronta, fruibile per l'estate 2023, quindi verosimilmente il 2023 si apre tutto, però ripeto il casello di Montecchio non è opera nostra.